per avere inizio questo ma TCH Sardana Correggio Correggio che onorevolmente ha disputato la stagione sfortunata culminata ormai nella retro e oserei dire anche cessione e nella pista davanti a Simone Corona con il numero 88 Francisco Rabal De Rinaldi scone numero 3 Andrea De Nite che ora è in possesso attenzione c'è il rigore il rigore è deciso dall'arbitro Rago ecco il secondo tentativo non va ecco il rigore e il blu il tiro di Schiavi la parata ancora festa è godi Eri Valdis Eri Gior papara Deri Deri Gior Paravara Deri Deri Gior e sta a 16.56 festa conclusione gol di festa Sergio Festa Sergio Festa Sergio Festa Sergio Festa ha fatto gol l'ennesimo gol di questa superlativa stagione di Sergio Cesta al 21 e 23 perde la pallina Aguilare bel gol che accorcia le distanze Nadini 3 a 1 ha segnato al 22-03 Nadini un applausone ma subito Sardana ancora festa ancora festa al 22-15 Xavi Rubio la conclusione e poi Fiesta che è fantastica Sergio Fiesta Sergio Fiesta ha fatto gol Fiesta ora Fiesta ha provato il numero e Xavi Rubio gol Xavi Rubio gol Xavi Rubio ha fatto gol Xavi Rubio gol Xavi Rubio ha fatto gol Zucchiatti prova Zucchiatti davanti a lui a Delinandis cade a terra c'è rigore lo indica Carmazzi rigore per Correggio che può accorciare Aguilar e la rete di Aguilar che accorcia Kilian Aguilar 6-2 Aguilar Xavi Rubio in mezzo il rigore il rigore decretato da dal secondo arbitro Alfonso Rago Xavi contro Saitta in croce dei pali e gol recupera Fiesta Serginio Serginio Sergione e Fiesta che fantastica fantasia Sergio Vesta Sergio Vesta Sergio Vesta Sergio Vesta Sergio Vesta Sergio Vesta ha fatto gol il gol di Fiesta è una festa al 15 e 29 e segna ha segnato Radini l'8 a 3 Eimi davanti c'è rigore su Eimi no tiro libero non è rigore ma è un tiro una punizione di prima la parata di Corona tanto mancano due minuti e 45 alla conclusione e Correggio accorcia questa partita che si avvia al termine Francesco dolce 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 subito dopo 9 a 4 quando recupera Deri Naldis e segna Deri Deri gol papara Deri Deri gol paravara Deri Deri gol papara Deri Deri gol 10 a 4 Deri manca ormai un secondo per cui concludiamo qui da Sardana al pala terzi pala quarti pala quinti Sardana batte Correggio 10 a 4 da Alessandro Grasso Peroni Gaetano De Benedetto eroico promoter delle immagini il più cordiale buona ma oltre aggiungere anche notte e le servet pent euro ecco e rz ecco mis honeymoon an